Ciao ragazzi, oggi andiamo ad allenare il taglio esterno, è un modo per cambiare direzione quando ci accorgiamo che guidando la palla, adesso la guidiamo sulla fascia destra, arriva un avversario, quindi cosa dobbiamo fare? Andare in protezione, tornare dietro e fare un passaggio di scarico. Quindi, dopo la gestualità, il passaggio che noi facciamo nella porticina, immaginatelo come un passaggio di scarico ad un compagno che ci è venuto a sostegno. Guardate. Andate sempre in protezione, braccio, gamba con cui faccio la gestualità e gamba d'appoggio, quindi sempre tripla protezione per cercare di non perdere il possesso palla in caso di pressione avversaria forte. Ciao ragazzi, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici e se vi è piaciuto il video commentate e scrivetemi. Ciao a tutti!